Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo le raviole catanesi, la ricetta siciliana del dolce ripieno di ricotta, da fare fritte oppure in forno, facilissime da realizzare in casa, ideali da servire a fine pasto oppure a colazione. Ragazzi, sono buonissime e la ricetta è davvero super super facile. Se le provate, mi raccomando, lasciatemi un commento. 50 ml di acqua naturale 8 g di lievito di birra fresco e un cucchiaino di zucchero semolato. Sciogliete bene il lievito. 500 g di farina tipo 0 Manitoba. Versate il lievito che avete sciolto al centro, 40 g di zucchero semolato e poco per volta versate 300 ml di latte parzialmente scremato. Se volete, potete utilizzare il latte intero. Amalgamate benissimo il vostro composto. Una volta che avete versato tutto il latte e avete amalgamato bene, versate anche il sale. Io utilizzo 10 g di sale. Le raiole sono dei dolci soffici e lievitati golosissimi, perfetti che si realizzano in Sicilia durante il periodo di carnevale oppure si possono gustare in qualsiasi pasticceria tutto l'anno nella zona del catanese. Quindi se vi piacciono le raiole catanesi, le troverete tutto l'anno nelle pasticcerie catanesi. Una volta che avete amalgamato bene il sale, versate 50 g di burro ammorbidito. Vi consiglio di uscire il burro dal frigo almeno 20 minuti prima di realizzare la ricetta, mi raccomando. Allora, la ricetta originale prevede lo strutto. Io preferisco il burro, se voi preferite potete sostituire il burro allo strutto, quindi fate un po' voi. Comunque vengono sofficissimi col burro, ve lo garantisco. Per amalgamare bene il burro, come vedete nel video, dovete proprio schiacciare il burro e amalgamare. Continuare ad amalgamare e schiacciare il vostro composto in questo modo. Proprio lo dovete sciogliere benissimo il burro. Una volta che avete sciolto benissimo il burro, potete fare riposare il vostro impasto. Quindi mettete un canovaccio pulito sopra e lo lasciate riposare per circa un'ora, magari dentro il forno spento o con luce spenta, lontano da fonti di freddo, quindi non lo mettete vicino a una finestra perché potete rovinare l'impasto. Dopo un'ora prendete la spianatoia, versate pochissima farina come vedete nel video, giusta la farina per amalgamare bene il vostro composto. Dovete ottenere un panetto liscio e omogeneo. Mettete il tutto all'interno di una ciotola, coprite con la pellicola e mettete un canovaccio pulito. Lasciate riposare dentro il forno spento con luce accesa per due ore e due e mezza. Dopo questo lasso di tempo possiamo preparare le nostre raviola alla ricotta. Quindi passiamo subito alla ricotta, 500 g di ricotta, 130 g di zucchero semolato, due cucchiaini di cannella e la scorza grattugiata di limone. Mi raccomando utilizzate il limone con la buccia edibile, quindi limone biologico. Amalgamate benissimo il vostro composto. Io ho utilizzato la ricotta, quella che trovate al banco frigo, quella cremosa. Ovviamente voi potete utilizzare la classica ricotta, quindi la fate sgocciolare bene e poi condite la ricotta con zucchero, cannella e scorza di limone. Benissimo, a questo punto prendiamo il nostro impasto, prendiamo la spianatoia, versiamo un po' di farina sulla spianatoia e versiamo il nostro impasto. Ci aiutiamo ovviamente con una spatola. L'impasto è super elastico. Lavoriamo l'impasto con quel poco di farina che abbiamo messo sul banco, perché non dobbiamo mai esagerare con la farina. Ecco qui il nostro panetto e io ho realizzato panetti di circa 80 g l'uno. Poi potete fare, se volete, panetti più grandi o panetti più piccoli. Questo dipende dai vostri gusti, se volete ravioli più grandi o ravioli più piccoli. Vi consiglio di lavorare il vostro panetto con pochissima farina, proprio appoggiate, come vedete, proprio, come si dice, bagnate nella farina poco poco e amalgamate benissimo il vostro composto. Quindi dovete realizzare dei piccoli panetti. Li lasciamo riposare con un canovaccio pulito sopra per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti siamo pronti per realizzare le nostre ravioli alla ricotta. Vi consiglio di mettere un po' di farina sul vostro mattarello, come vedete nel video, pochissima farina oppure sul vostro panetto, perché se no vi appiccica, infatti vi ho fatto vedere l'esempio. Ci vuole un pochissima farina, di tanto in tanto mettete la farina sul mattarello e poi, oppure sul banco, proprio, mi raccomando, pochissima farina alla volta. Condimento la nostra ricotta e poi bagnate i bordi o con il latte o con l'acqua per sigillare bene le vostre ravioli alla ricotta. Quindi, come vedete, dovete prima picchettare per chiudere tutti i bordi e poi avvolgere le vostre ravioli alla ricotta in questo modo, per sigillare bene. Come vedete, metto pochissima farina sul banco, vado a amalgamare benissimo, a stendere bene il mio panetto, raviola alla ricotta buonissima, quindi mettiamo questa ricotta, bagniamo i bordi con l'acqua, sono preferite come ho detto prima con il latte, sigillate in questo modo e poi andiamo a chiudere, così avvolgiamo la nostra raviola alla ricotta. Ragazzi, il gioco è fatto! Ovviamente, nel frattempo che stiamo realizzando le nostre raviola alla ricotta, dovete mettere già l'olio sopra, quindi olio di semi e l'olio deve essere ben caldo, mi raccomando, l'olio per friggere le nostre ravioli di ricotta, però la fiamma deve essere medio-bassa. Se utilizzate una fiamma alta, le vostre ravioli alla ricotta si bruceranno, risulteranno subito dorate, ma in realtà all'interno non saranno cotte. Se utilizzate una fiamma troppo bassa, le vostre ravioli alla ricotta risulteranno unte, mi raccomando, dovete utilizzare una fiamma medio-bassa, in modo che le vostre ravioli alla ricotta risulteranno cotte sia all'interno che all'isterno, quindi una cottura ottimale dovete utilizzare per forza una fiamma medio-bassa. Ragazzi, ecco qui le nostre raviole buonissima alla ricotta. Credetemi, sono una vera e propria delizia, dolcetti soffici e ripieni di ricotta zuccherata, fritti ancora più buoni a mio parere, ma si possono fare anche al forno per avere una cottura più leggera. Facciamo le ravioli catenesi e vedrete che le adorerete e le rifarete mille volte. Ciao!